Io faccio soltanto un breve saluto e ringraziamenti e un benvenuto a tutti voi in questo giovedì dei musei che in realtà rispetto a quelli scorsi dell'anno 2021 vedono molte più persone presenti perché in realtà da domani noi abbiamo il 100%, quindi ancora oggi siamo infatti al 50% della nostra capienza, anche un po' meno mi sembra, però forse non sono ancora partita perché lui mi deve registrare. Quindi buonasera a tutti, siamo anche registrati in streaming sul nostro canale YouTube che poi rimarrà registrato e quindi questa diciamo che è una delle belle novità che abbiamo trovato con la pandemia e vi devo dire che è comunque un bellissimo modo di comunicazione delle nostre attività e della nostra appunto diversi aspetti perché permette di essere poi rivisto anche sul canale YouTube. Faccio sempre il caso del nostro convegno raffaillesco di settembre del 2021, in sala c'erano 60 persone scarse e più di 7000 persone hanno ad oggi visto e si sono collegate nelle diverse sessioni del nostro convegno, impensabile in un convegno normale e impensabile prima della pandemia, quindi diciamo qualche aspetto positivo la pandemia l'ha avuto. Per oggi siamo qui per presentare un volume importante frutto veramente di anni di ricerche nato e concepito sull'attività che il reparto di arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani, così magistralmente diretto da Micheal Forti che ne è anche la curatrice di questo volume ma che è anche la promotrice insieme a Lia Paglierani di tanti studi su Vietano Previati ben prima delle celebrazioni fu un'estate del 2020 che volevamo tutti celebrare bene che voi credo e saluto appunto non solo il sindaco ma tutta la giunta di quell'altro importantissimo centro che ha un'altra via crucis che è Tano Previati che appunto può ben capire l'importanza della nostra via crucis e chiaramente noi, lo sapete bene, l'avevamo esposta nel Museo di Ocesano nel 2018 a Milano e tra l'altro ridando conto di un'attività di restauro, anche di ricerca d'archivio, di ritrovamento delle nostre cornici, era un rapporto molto stretto anche sebbene diverso con la vostra via crucis e c'era l'idea di approfondire da quello spunto che era stato in quell'occasione il Museo di Ocesano di Milano aveva acquisito il bellissimo dipinto delle Tre Marie al sepolcro e quindi era un po' un corredo di passione quaresimale sull'artista e invece appunto la mostra romana, la mostra vaticana voleva essere una mostra ben più celebrativa dell'artista in senso più lato con le altre opere che avevamo con i restauri fatti sulle altre opere che noi abbiamo qui nelle nostre collezioni e voi appunto, c'è qui Chiara Vorrasi che è una delle grandi esperte, posso dire, mondiali di quest'artista così importante per il nostro Novecento e per tutta la pittura che dopo di lui si sviluppa, voi siete riusciti a fare la vostra bellissima mostra a Ferrara noi, forse l'avete visto oggi con Micol Forti, lo spazio espositivo del bacio di Carlo Magno che è il cuore proprio della cristianità, se vogliamo, perché proprio in questo abbraccio berniniano della piazza di San Pietro è diventato dall'inizio del 2021 il nostro centro vaccinale perché permetteva degli spazi aerati essendo uno spazio molto ampio pensate che la mostra era già praticamente allestita nel suo allestimento tanto che quando andiamo a farci vaccini, ne abbiamo fatti tre, tutte noi li facciamo con l'allestimento di previati quindi fa veramente molta impressione però necessità virtù, questo l'abbiamo imparato, dobbiamo cogliere l'attimo e quindi quando qualche settimana fa il Cardinal Gambetti mi ha telefonato proponendomi di dare un uso liturgico a una via crucis che di fatto non l'aveva mai avuto era stata appunto anche, era una committenza, era stata esposta lo sappiamo, è stato molto ben raccontato da Micola adesso sarà a voi anche di raccontarlo meglio a tutti quanti ma di fatto non era mai stata usata come via crucis inizialmente ho avuto anche un po' di paura perché il Cardinal Gambetti volendo riportare la Basilica di San Pietro durante tutto il periodo cuoresimale ad un uso liturgico ogni venerdì per la via crucis la chiesta vedendo perché noi appunto nel 2020 non potendo più realizzare la mostra giustamente l'abbiamo sfruttato la parte digitale l'abbiamo messa online nel nostro sito Fra Agnello Stoia e il Cardinal Gambetti che è l'arciprete della Basilica di San Pietro che qui ringrazio anche soltanto di averci dato così il là per un'iniziativa che tra l'altro coincideva con questa nostra presentazione di oggi ci ha permesso appunto con questa telefonata di pensare di esporla in San Pietro inizialmente ci siamo un po' spaventate abbiamo detto ma no esponiamo delle riproduzioni e poi effettivamente l'avete vista voi anche come è stata esposta sembra quasi naturalmente il loro alloggio meraviglioso sta perfettamente con questo rosso Previati, Passione, Quaresimale e veramente della via crucis perfettamente con il contesto di una Basilica così importante, così imponente e ragionandoci bene è uno dei pochissimi cicli pittorici su appunto dipinti, non affresco, non mosaico non stucchi che è nella Basilica di San Pietro quindi una possibilità veramente di riportarlo all'uso liturgico non è una mostra e questo giustamente il Cardinal Gambetti e tutti noi lo sappiamo è veramente riportare la via crucis di Catano Previati all'uso liturgico per il quale fu concepita comunque dall'artista e quindi sono molto grata a lui per questo l'abbiamo poi immediatamente realizzato grazie agli amici della fabbrica non vedo Pietro Zander e gli altri ma forse arriveranno o comunque potranno seguire via streaming o sulla registrazione poi di questa giornata però veramente di grande, una grande collaborazione tra istituzioni vaticane e il Papa, adesso vediamo se andrà il Colosseo o se farà la via crucis là questo non è ancora uscita diciamo una programmazione esatta ma comunque nel periodo quaresimale, la settimana santa nel periodo appunto pasquale la via crucis rimarrà, di Piero Reviati rimarrà in basilica e quindi al godimento dei tanti che come vedete stanno piano piano riprendendo a venire diciamo a visitare sia i musei ma a visitare anche la basilica in questi ultimi due anni è stata assolutamente poco visitata così come sono stati i nostri musei e invece mi dicono anche da parte della basilica che si sta tornando a vedere i pellegrini e i fedeli che tornano e anche i visitatori in senso più lato mi piace però anche ringraziare qui i tanti che si sono adoperati per la realizzazione di questo libro cercherò di essere brevissima ma ci tengo a dire che il volume che è dedicato a Previati quindi non soltanto alla via crucis ma anche alle altre nostre opere la georgica e il notturno Claire de Lune che abbiamo nelle nostre collezioni sono state restaurate abilmente dalle restauratrici che sono qui Angela Cerretta e Laura Baldella del laboratorio restauro pitture dei musei vaticani che è coordinato da Francesca Persegati che oggi non può essere qui con noi ma è qui con noi comunque per la sua instancabile attività di coordinamento che fa di questo importantissimo laboratorio di restauro che più o meno dagli anni della morte di Previati aiuta, supporta diciamo in maniera stabile, stabilizzata i restauratori in Vaticano ci sono dall'epoca di Raffaello se non prima ma di fatto con un laboratorio stabilizzato come questo è dagli anni 20 tra quest'anno e l'anno successivo e l'anno prossimo sicuramente festeggeremo i 100 anni del laboratorio restauro pitture che pensate soltanto questo laboratorio ha 26 persone che lavorano stabilmente fisse e dipendenti del nostro museo quindi grazie a loro, grazie al laboratorio di diagnostica e conservazione e restauro che è coordinato da Ulderico Santa Maria qui c'è Fabio Morresi che ha il suo braccio più che destro è la sua espansione e ormai è un tutt'uno Ulderico Santa Maria Fabio Morresi noi li nominiamo perché tutti e due sono preziosissimi per farci affrontare in sicurezza e con le indagini dovute interne appunto in casa restauro impegnativi che noi affrontiamo in diverse tipologie di materiale quindi anche con la loro creatività e invenzione noi li chiamiamo etabeta ma effettivamente danno anche quel in più alla visione delle indagini di tipo scientifico che sono fondamentali ancora anche ringraziamenti a Marta Bezzini e Silvia Milana dell'archivio storico dei musei per le tante ricerche fatte su questi argomenti e su che hanno previato nelle nostre collezioni al laboratorio fotografico nostro ma soprattutto non possono ringraziare i patrons of the arts in the Vatican Museums in particolare il capitolo pensato è del Minnesota e del Nord Dakota e in particolare anche la signora Olessia Cantor che appunto dal Minnesota, dal Nord Dakota e da Israele hanno voluto sopportare e sostenere il restauro della Via Crucis, delle cornici e del Clair de Lune e della Georgica dimostrando una sensibilità straordinaria anche al di là dell'oceano quindi veramente mi piace ringraziare comunque anche le segreterie eccoci qua Cristiano Usai il capo della mia segreteria ma anche appunto Monsignor Nicolini che è il vice direttore amministrativo gestionale Roberto Romano che è il segretario di questi musei con i quali veramente c'è una sinergia di lavorare perché dietro i restauri ci sta un'organizzazione dietro le ricerche, dietro l'editoria ecco l'editoria e poi forse Nicol anche vorrà dire a lei due parole più tardi Giuseppe Mazza e tutto il coordinamento dell'editoria con Valerio Brienza credo che sia stato lui a proprio diciamo curare il volume e Simona Tarantino pensate che a un certo momento in piena pandemia così Nicol arrivò addirittura a dirmi guarda se non abbiamo i soldi lo pago io di tasca mia e questo è veramente una cosa bellissima chiaramente non l'abbiamo accettato abbiamo aspettato un po' di tempo però dall'idea della passione che Nicol Forti ha messo in questa attività e voglio anche riconoscere che Lia Pagliarani incinta o col bambino appena nato piccolissimo allattando si è andata per fare tutte le giuste ricerche d'archivio che andavano fatto per far un volume serio e importante come quello che è stato realizzato scusate fatemi ringraziare Francesca Boschetti che eccola Francesca scusa che collabora in maniera molto stretta al reparto che anche se il suo nome diciamo non compare tra gli autori di questo libro è sicuramente parte di questo reparto che è un reparto giovane di questi musei ma che sicuramente è un reparto portato e basta spero di non aver dimenticato nessuno do subito la parola a Esther Coyne che non ha bisogno di essere presentata se non come grandissima specialista del Novecento dell'arte, della cultura e di quei movimenti tra cui il futurismo è uno di questi che hanno determinato la grande pittura del Novecento italiano internazionale e autrice di tanti tanti volumi e studi importanti ma ecco forse a lei la parola io taccio grazie di essere qui sono io che vi ringrazio per moltissimi motivi prima di tutto per l'invito per avermi fatto leggere avermi dato la possibilità di leggere questo volume che è bellissimo e adesso vi dirò anche i motivi per i quali ho molto apprezzato i testi i testi gli studi le ricerche perché è un volume ricchissimo di materiali di tutti i generi è un volume che affronta con grandissima con un'analisi tra l'altro quello che mi ha colpito è anche con una certa leggerezza nel senso che è un volume che si legge molto velocemente con piacere senza attardarsi in dettagli che poi vengono comunque inseriti nelle note eccetera e per avermi dato anche la possibilità di rileggere anche i testi di Previati che era da parecchio che non li avevo più riletti e vedere oggi ringrazio tutti voi che avete organizzato questa bellissima visita all'interno della Basilica dove sono esposte le 14 tele della Via Crucis 14 tele devo dire straordinarie che Mikol Forti analizza in questo testo bellissimo il suo Un tramonto ancora imbevuto nel giorno lo intitola Mikol io vorrei segnalare anche gli altri nomi degli autori perché di solito quando si presentano i libri si parla di se stessi e non si parla mai del libro e invece vorrei sottolineare appunto gli autori anche che hanno partecipato a questo bellissimo volume e che sono Sergio Rebora Francesco scusate Ferdinando Mazzocca come per l'introduzione del volume Sergio Rebora Previati e l'associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra all'eredità di Alberto Grubisido e Dragon la Via Crucis nei documenti dell'archivio di Alberto Previati di Elisabetta Staudacker Monica Vinardi per la documentazione fotografica dei disegni sul tema della Via Crucis appartenuta alla Società per l'Arte di Gaetano Previati Rosalia Pagliarani per l'altro non più per la Via Crucis ma per il bellissimo dipinto georgica del 1905 per il notturno sempre Rosalia Pagliarani e sono già stati citati invece gli autori dei testi che diciamo che hanno che hanno corredato tutta la parte diagnostica di restauro penso che abbiamo alla fine nominato tutti e dunque quello che il testo di Nicole Forti mi è piaciuto in modo particolare perché non è soltanto la ricostruzione di una di una storia non è solo la ricostruzione della diciamo la ricostruzione bibliografica e storica del percorso che questi dipinti hanno avuto ma ha prima di tutto scritto in maniera in maniera veramente straordinaria e e c'è proprio una un affondo nella vi dicevo non soltanto nella storia ma anche nella nella letteratura critica nella quindi tutte le citazioni di di testi dell'epoca in particolare del biografo diciamo del più grande biografo di Previati che è Barbantini Nino Barbantini e che è stato tra l'altro il diciamo colui che per prima ha capito la diciamo l'importanza di un giovane come Boccioni e lei ha esposto gli ha permesso diciamo di realizzare la sua mostra nel 1909 a Venezia a Cappesaro quindi c'è questo legame che poi vedremo perché io in realtà non sono una specialista di Previati per cui passerò la parola a Chiara ma essendo diciamo essendomi prevalentemente occupata di futurismo ovviamente il mio ambito si è ovviamente esteso anche allo studio diciamo di autori molto vicini ovviamente a quella che è stata la la storia di quegli anni quindi vi dicevo bella la ricostruzione quindi non soltanto critica storica la ricostruzione dei vari passaggi e dei vari momenti anche soprattutto dei vari momenti espositivi ecco io non mi soffermerò assolutamente su questo però sono stati momenti e passaggi che hanno che fanno capire appunto quanto Previati sia stato un artista diciamo molto complesso molto difficile anche da capire lo dicono gli stessi gli stessi contemporanei lo stesso Boccioni nel 1916 scrive un lunghissimo articolo sulla pittura di Previati quindi pochi un mese prima due mesi prima della sua morte scrive questo articolo lunghissimo in cui adesso vi citerò alcuni punti in cui proprio coglie l'importanza di questo grande maestro e però sottolina più di una volta quanto questo artista sia un artista incompreso quanto non sia stato capita la sua pittura la sua grandezza e la sua importanza Boccioni addirittura nel 1908 va a visita Previati cioè cercando in qualche modo di trovare un sperando di trovare in questo maestro a cui si rivolge una spalla in un certo senso ma si capisce che Previati è un po' accoglie il giovane ma lo tiene un po' a distanza non lo vuole deludere sembra così almeno lo interpreta Boccioni non va a visitare non va a vedere l'opera che sta dipingendo eccetera eccetera però vi dicevo alla fine Boccioni scrive veramente coglie proprio i punti più interessanti più importanti direi della pittura di Previati vi leggo alcuni passaggi Previati è il solo grande artista italiano di questi tempi che abbia concepita l'arte come una rappresentazione una rappresentazione in cui la realtà visiva serve soltanto come punto di partenza egli è il solo artista italiano che abbia intuito da più di trent'anni che l'arte fuggiva il verismo per innalzarsi allo stile questo direi che è il primo punto importante cioè sfuggire il verismo è un artista che abbandona quindi tutta quella che è l'arte del passato per cercare diciamo per sondare altri percorsi e attraverso che sono percorsi diciamo di alta spiritualità di grandissima di straordinaria visionarietà direi e Boccioni lo coglie con grandissima precisione anche perché ha il suo confronto è quello con Balla pur essendo Balla uno straordinario maestro Boccioni diciamo ne critica l'aspetto troppo troppo puntuale dice insiste troppo sul dettaglio insiste troppo sul particolare di natura e invece quindi Previati va al di là di questo diciamo di questo aspetto lo si vede ovviamente in tutta la pittura di Previati soprattutto in queste 14 tele che sono direi di una di una incredibile incredibile modernità prima di tutto il l'idea stessa di allestire di di pensare a questa Via Crucis come un continuum una una visione paratattica dove tutte le tele sono messe una accanto all'altra però voglio dire è comunque un allestimento che fa grandissimo effetto ed è una visione quasi cinematografica quasi direi questo accostamento paratattico delle delle tele che crea un dinamismo interno quindi che crea una narrazione ovviamente una narrazione non narrata perché sono delle opere che hanno una tale forza e una tale diciamo un tale impatto in sé ognuna per sé in quanto sono costruite con una con dei tagli esasperati con delle con dei tagli di luce ovviamente e con una pittura anche così così macerata dove soltanto dove le prime dunque le dieci stazioni sono accese da quel rosso della della veste del Cristo e per poi spegnersi completamente e invece sottolineare diciamo creare quella quella senso di morte attraverso quei bruni quei colori bronzi quei colori ambrati quell'imbrunire e quella dimensione appunto di 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 morte che che si che si avverte nelle ultime appunto nelle ultime quattro tele dove il colore viene completamente smorsato e viene e lì lì ancora di più diciamo le masse vengono messe in evidenza cioè proprio questo questo costruire per masse attraverso il contrasto il contrasto tra i contrasti cromatici ma contrasti cromatici e assiali che sono fortissimi ecco questo questa croce che lui addirittura aveva addirittura in casa come Nicole riporta c'è un passo scusate se lo ritrovo ecco nella biografia di Barbantini Barbantini scrive nel 1901 verso l'autunno Previati si ordinò una grossa croce massiccia e 14 telai ci si chiuse in mezzo lavorò senza posa e senza respiro fino alla primavera seguente dieci mesi per non distrarsi dalla meditazione costante del dolore della morte di Cristo aveva la grossa croce massiccia davanti agli occhi e ogni tanto se la caricava in spalla per sentire come pesava come aveva dovuto pesare sulle spalle gracili e malate di Gesù quindi questo peso che diventa diciamo il peso che noi sentiamo nella pittura perché è talmente è talmente forte cioè proprio dalla prima il primo dipinto è quello del Cristo alla colonna ma poi sempre più la presenza della croce diventa l'elemento diciamo di l'elemento prospettico l'elemento diciamo costruttivo dell'impianto della tela stessa ma diventa l'unico elemento reale della rappresentazione e ancora Boccioni in altri punti devo dire ha una sorta di straordinaria lucidità Gaetano Previati è stato il precursore in Italia della rivoluzione idealista che oggi sbaraglia il verismo e lo studio documentato del vero ma c'è un altro punto lui dice ed è qua che trovo che coglie ovviamente ci sono dei punti in cui parla della della visionarietà e della della sintesi impressionistica della forma la chiama della forma e del colore ha ridotto ha ridotta la forma classica volumi e masse luminose che deformano i corpi e l'ambiente secondo la volontà dell'artista e poi però dice a conclusione oggi di fronte all'idealismo plastico verso il quale è febbrilmente tesa tutta la forza artistica della nostra gioventù Previati si erge come un grande maestro del passato la sua opera è l'ultima espressione plastica ed eroica del rinascimento dice un sogno che svanisce nella luce della modernità cioè è bellissima questa frase perché è vero visitando visitando vedendo le 14 tele si intuisce proprio quanto Previati abbia colto appunto lo diceva anche Nicole quanto Previati abbia colto la forza dei maestri del passato come li citi proprio si sente si vede si intravede Raffaello si intravede Michelangelo si intravede Tiziano anche nella sua pittura moltissimo Tiziano non soltanto non soltanto nell'acromia ma anche proprio nella nella costruzione del soprattutto in Georgica per esempio scusate nel Claire de Lune in questi due personaggi cioè ricorda anche la costruzione diciamo l'impianto di Tiziano ma appunto l'altro artista che avete tutti anche ampiamente citato che parla di di Previati e che scrive un altro testo anche qui molto curioso molto interessante è De Chirico che nel 1920 scrive un testo alla morte di Previati Previati morì nel 1920 e De Chirico come è suo solito fa sempre questi grandi così voli pindarici per cui le prime due pagine sono dedicate a Ferrara Ferrara che è stata per lui diciamo la la città una città straordinariamente importante la città diciamo della genesi dell'arte metafisica una città che De Chirico ha molto amato conoscevo benissimo quali sono stati i risultati di questo di questo amore ma a un certo punto comincio a parlare di Previati effettivamente anche qui coglie alcuni altri aspetti che sono rispetto a quelli diciamo che Boccioni aveva sottolineato scusate un punto che vorrei però riprendere su di Boccioni è dove Boccioni parla ecco questo punto è interessante anche si potrebbe dunque chiamare Previati un impressionista cerebrale che costruisce quadri in cui il materiale quasi completamente tradizionale cristi vergini eroi episodi storici eccetera si rinnova nell'unità impressionistica della sua forma stato d'animo e colore stato d'animo ovviamente lo stato il termine stato d'animo rimanda chiaramente ai famosi dipinti poi Boccioniani di diciamo dipinti pochi anni dopo l'incontro con Previati che cosa dice che cosa dice De Chirico dice delle cose abbastanza curiose dice Previati fu il solo che si accinse all'aspra fatica di prendere il corpo umano come simbolo e segno come formula per esprimere i misteriosi turbamenti del nostro animo solo dinanzi a se stesso o dinanzi agli enigmi dell'universo cioè è come se rileggesse la la personalità di Previati attraverso diciamo la propria il proprio sentimento attraverso la propria la sua la visione quella visione che ritorna più volte nel testo cioè lo individua come un artista che diciamo che è come l'espressione finale di un mondo medievale ormai ormai scomparso rimette mette crea del un curioso rapporto tra il mondo della Grecia e il mondo diciamo il mondo del il mondo medievale attraverso le la luce di meriggio nelle epoche classiche la luce di meriggio sappiamo bene quanto De Chirico sia stato diciamo un come abbia tradotto questa luce di meriggio che comunque aveva desunto dalla lettura di un grande filosofo tedesco come Nietzsche quindi tutti questi intrecci scusate se vi ho letto e sono stata forse un po' un po' poco lineare nella nella mia così nelle mie letture ma volevo dire che ci in questi anni due artisti come De Chirico e Boccioni così lontani tra di loro eppure colgono diciamo l'importanza di non soltanto di previati ma per esempio un'altra 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 cosa che mi ha molto colpito è quando Boccioni nel 1907 si reca a Monaco e diciamo l'unico artista di cui parla e che di cui riconosce l'importanza e la grandezza nella 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 visita della Pinacoteca è Böcklin cioè Böcklin e Boccioni cioè sono proprio due mondi quasi all'opposto eppure sappiamo quanto De Chirico invece abbia apprezzato amato Böcklin abbia seguito diciamo la 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 pittura di Böcklin ma quasi addirittura quasi in certi momenti quasi plagiandola direi quindi è un previati visto attraverso gli altri artisti questo era quello che mi mi affascinava che volevo riportarvi diciamo allargando un po' il discorso di questo straordinario di questo straordinario libro non posso ovviamente soffermarmi sui sui singoli sui singoli capitoli sui singoli testi che sono tutti direi di 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 grande interesse vorrei forse soltanto aggiungere qualcosa al perché perché previati è così è così importante cioè previati è comunque un artista tipico rispetto al momento in cui dipinge certamente c'era stato successo segantini che è un pittore contemporaneo forse più ammirato e più amato senz'altro di previati è più difficile da capire cioè previati attraverso questa pittura direi così concettuale quasi direi è una pittura che ogni quadro è più che essere un dipinto che che narra un dipinto che che accoglie è un dipinto che direi che ha un impatto piuttosto violento sulla soprattutto diciamo quelli della serie della della Via Crucis cioè in alcuni alcuni addirittura alcuni critici lo trovano sgradevole lo trovano troppo complicato ecco la grandezza di previati è proprio quella di uscire da un da un contesto da un contesto che era quello appunto del verismo come abbiamo già citato ma di elevare questo questo diciamo questa pittura a una dimensione che è tra il visionario e lo spirituale cioè non è soltanto una dimensione spirituale come possono far pensare ovviamente quasi tutti i temi che previati affrontano è una pittura che ha appunto questa questa sorta di visionarietà da incubo come come scrive come scrive De Chirico e non a caso illustra ci sono quelle bellissime illustrazioni di di previati di Edgar Allan Poe quindi è un un artista molto colto anche rispetto per esempio a Segantini è sicuramente un artista che ha una dimensione diciamo che ha una cultura un'apertura una molto più ampia e e questo gli permette diciamo oltre al oltre al la sua personalità al suo alla personalità di un di un artista anche molto isolato gli permette comunque di racchiudersi e di racchiudere anche la sua pittura in una dimensione straordinariamente alta c'è una una frase bellissima che scrive nel 1893 al fratello in cui dice descrivere il soggetto e distruggerlo ma l'effetto viene dalla proporzione dal tono dalla luce da un non so che che in vano si rintraccia nei soggetti religiosi del passato e che proviene dalle stesse sorgenti seppure sono arrivato a conoscere me stesso e non restare illuso dalle debolezze d'autore che è e io con questo direi lascio passo la parola a Chiara perché mi sembra che questa questa frase dia proprio tutta la dimensione di un di un autore dalla grandezza proprio interiore dalla personalità che diciamo che ricerca ricerca una una dimensione molto diciamo appunto non solo spirituale ma appunto visionaria grazie passiamo subito la parola a Chiara Vorrasi solo introdurla brevemente l'ho già fatto grande specialista del nostro amatissimo Previati ma anche curatore presso le gallerie d'arte moderna e contemporanea di Ferrara città appunto ricordato Natale di di Previati e ha curato non soltanto una bella mossa che vede vede nel 2018 Previati e Boccioni uniti ed Esther Cohen veramente ce l'ha così ben tratteggiato in questa così descrizioni proprio di Previati da parte sia di Boccioni che di che soprattutto di De Chirico quindi veramente due poli molto distanti che però due grandi colossi del nostro novecento che ragionano e che descrivono un artista che può essere considerato veramente un altro grande colosso e la mostra consacrata nel 2020 è da Chiara Vorrasi e da Ferrara e quella che voleva essere la nostra ma insomma diciamo ci stiamo riuscendo piano piano a farlo vuole veramente essere una testimonianza dell'importanza che quest'artista ha per per la cultura figurativa italiana e internazionale e lascio a lei la parola e poi sarà il turno di Nicole Io ringrazio la direttrice la curatrice di questo volume di questo invito e devo dire che sono veramente emozionata non solo di avere la possibilità di parlare in questo contesto di questo importante volume di Previati ma di farlo dopo Esther Cohen da cui ho avuto l'imprinting su Boccioni quando ancora all'università ho visitato la mostra al Metropolitano me lo so ecco è veramente sì devo dire è veramente emozionante e vorrei anche io innanzitutto soffermarmi sull'importanza di questo volume di questa risorsa ricchissima che veramente aggiunge un tassello importante alla ricostruzione filologica di un artista che come ha estesamente illustrato Esther Cohen è un tassello fondamentale nello snodo tra simbolismo e linguaggi d'avanguardia e paradossalmente attende ancora un catalogo ragionato quindi studiare mappare i segmenti della sua produzione conservati nei musei sono naturalmente il passaggio fondamentale per arrivare a questo obiettivo fondamentale anche a Ferrara stiamo lavorando in questa direzione quindi è tanto più prezioso questo catalogo come è stato accenato ripercorre più di un secolo di storia perché muove dalle matrici e arriva le matrici della produzione di questi artisti e arriva all'estensione diciamo espositiva la fortuna conservativa delle opere del loro destino museale passando al setaccio fonti fonti iconografiche archivistiche la letteratura critica e storiografica e soprattutto mettendole diciamo a confronto con gli esiti delle lineagini diagnostiche che sono naturalmente e delle campagne di restauro che sono naturalmente uno stato cruciale per un artista come Previati che è affidato all'affinamento del mezzo tecnico e proprio il profilo tecnologico della produzione artistica e allo studio delle componenti scientifiche per quanto queste possono dare un apporto alle arti appunto avuto un ruolo fondamentale per questo vorrei partire non so se è possibile mettere il sì lo ah ecco sì no 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 questo sta andando ah F5 eh sì no lo vedo qui ma non lo vedo in linea si volevo mostrarvi il 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 proprio con F5 no questo è il tuo sì ok allora lo devono fare sì come fa Micheal Forti volevo partire nel nel suo saggio che ricostruisce estesamente la storia della le vicende legate a come è stato detto alla via Crucis partendo dall'autorità di Previati conservata alla Galizia Nazionale d'Arte Moderna un'opera che lo descrive con una lo vedo in online quindi puoi parlare tranquillamente seguendo il tuo parco ah ecco ah lo vedo in online ma non lo vediamo noi adesso sì ah quindi perfetto ecco ecco che ne presenta una una profilo eroico che se confrontato con le foto del tempo presenta naturalmente uno scarto rispetto alla figura un po' timida pagata anche un po' attacchiata dell'artista posso dirlo la somiglianza diciamo di corporatura e che però se andiamo a leggere la dedica che 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 apposta all'amico carissimo Alberto Grubisi questa tavolozza che compendia tutta la nostra lotta ecco è di è di qualcos'altro che naturalmente Previati sta parlando il suo sguardo e l'enfasi che concede alla tavolozza diciamo con un'acromia ben più accesa rispetto al al resto della composizione ecco possiamo interrogarci appunto su quale sia la lotta che Previati ha ingaggiato e a cui ha avuto per la quale ha avuto in Alberto Grubisi ma anche nel fratello una una valida spalla che appunto un rinnovamento dello sguardo attraverso un affinamento costante dei mezzi tecnici e ha letto il testo di letto di Barbantini letto da Esther Cohen ci dà un'idea di come Previati si sottoponesse veramente a dei tour de force incredibili per raggiungere diciamo la la consapevolezza e riuscirla a trasferire sulla tela dello stato d'animo che che fosse più affine al soggetto che intendeva rappresentare e quindi in quei dieci mesi di cui parla sembra quasi tornare alla memoria l'autentica epopea che lo porta a rappresentare sulla tela l'iconografia dell'amore materno trasposta in un'abbagliante visione che ci riporta all'archetipo stesso della maternità questo utilizzando ovviamente come si sa i principi assunti dagli studi ottici sulla luce sul colore di Rudd Chevrolet e Helmholtz e per far questo confida al fratello con il consueto passo sono invischiato a rendere nella figura principale tutta l'intensità dell'amore materno e renderelo partecipe del movimento delle altre figure nel quadro perché ne risulti un tutto omogeneo che impedisca qualunque altra interpretazione all'occhio dell'osservatore ecco in questo autentico tour de force ha durato un anno previati quello che voleva ottenere è incidere sull'osservatore anzi in qualche modo cancellare virtualmente il diaframma rappresentato dalla superficie pittorica per stabilire un rapporto rinnovato diverso con l'osservatore attraverso una stimolazione sensoriale e attraverso un coinvolgimento emotivo in questo si appoggiava alla psicologia all'estetica fisiologica che era nota nella cerca di Grubisi di Vittore Grubisi in particolare Polsuriò aveva studiato il potere di suggestione delle immagini e aveva osservato come sia molto rafforzato dall'essenzialità e dal dinamismo della rappresentazione ecco se andiamo a ripercorrere il cammino che Previati ha seguito nella maturazione della sua riflessione sul tema della passione possiamo notare proprio che è stato analiticamente ricostruito da Micheal Forti possiamo proprio notare questo processo diciamo di ricerca diciamo di essenzialità ma anche di intensità espressiva e diciamo con un accento che soprattutto oltre la soglia del secolo lo porta diciamo a una dimensione nettamente dinamica oltre che fortemente espressiva avete visto in sequenza il crocifisso giovanile la scusate la via crucis di Cassano I per spostarsi sulla soglia del secolo al crocifisso conservato a Ferrara e allo spasimo di cui Tumiati scrive la sagoma corporea sembra lacerarsi e dare sfogo al parossismo del sistema nervoso le linee della finossionomia e delle membra del corpo perdono il loro aspetto statico ecco lo scarto decisivo in questa direzione avviene però come è stato detto con la via crucis nella quale la folla come scrive evidentemente Stercone diventa quasi una massa informe il coro della tragedia greca che assiste appunto alla passione di Cristo la figura di Cristo balza prepotentemente in primo piano verso l'osservatore sospinta anche dal peso della croce che attraversa diagonalmente le scene e il contrasto cromatico raggiunge una violenza visiva assolutamente inedita che oggi grazie a questa visita abbiamo potuto apprezzare nella Basilica di San Pietro ecco la gestazione di questa di questo capolavoro raggiungere questo risultato ha richiesto a Previati tanto una intensa attività disegnativa che è stata studiata da Monica Vinardi che ha intracciato nell'archivio della società per l'arte di Gaetano Previati le foto di due serie di disegni cristologici che non sono studi diretti per la composizione ma che costituiscono una sorta di repertorio visivo degli appunti per soluzione a cui lui attinge poi negli anni e nel quale dispiega le doti disegnative che appunto sono state ricordate ecco oltre a questo diciamo lavoro preliminare di invenzione visiva Previati lavora anche sulla tela in corso d'opera come hanno dimostrato le indagini diagnostiche e gli esiti del restauro condotti dai laboratori dei musei vaticani in questa occasione che hanno messo in evidenza la stratigrafia così importante che testimonia appunto questo ecco state osservando la la riflettografia infraroso della della Veronica a mille mille settecento nanomicron a seconda della dell'intensità della della banda è possibile indagare come è noto stati pittorici a profondità diverse fino alla radiografia che vedete sulla destra che riconsegna un'immagine diciamo degli stati più profondi e che permettono di valutare diversi aggiunte pentimenti per esempio l'inserimento della figura del coro diciamo di cui si è detto questa cassa di risonanza si va a potenziare perché si aggiunge una ulteriore figura e poi l'inclinazione della della croce sembra un dettaglio insignificante eppure il peso di quest'immagine a quel punto propende nettamente verso l'osservatore quindi diciamo previati è come se in tutte le fasi della sua produzione si interrogasse qui ecco vediamo che le figure dello sfondo non compaiono nell'indagine di fettografica meno in profondità quindi compaiono e non sono invece visibili in radiografia quindi chiaramente sono state aggiunte successivamente anche la superficie pittorica lo vediamo nelle immagini delle macrofotografie realizzate durante il restauro della georgica la superficie pittorica è oggetto diciamo di una ricerca costante previati cerca di diversificare morfologicamente le diverse componenti dell'opera osservate sulla sinistra le pennellate allungate del manto della vergine mentre invece come tocchi guizzanti rendano le spighe mosse dal vento o ancora dei pentimenti degli interventi in corso d'opera in alto a destra vedete come viene assottigliato il profilo del ramo dell'albero diciamo un attento studio regia che lo porta veramente a creare quell'equilibrio armonioso luminoso che regola questa quest'opera meravigliosa così come diciamo previati non si limita diciamo a governare tutti i momenti del processo produttivo ma come Michele Forti ha messo in evidenza molto probabilmente è stato lui stesso probabilmente di concetto con Grubisi il suo alleato in questa lotta a pensare all'allestimento che è stato ricostruito grazie agli studi condotti in questa e in occasione della mossa e appunto sono stati appunto allestiti nel 2018 nella in quella che presumibilmente anzi quasi evidentemente era la concezione iniziale e che viene diciamo riportata dalla dalla recensione di Alfonso Magrini amico e collega che parla appunto di tre pareti color cupo le traversa una fila di 14 quadri riccamente e osteriamente incorniciati d'oro senza alcuno spazio fra loro quindi appunto come ci ha ricordato oggi Michele Forti appunto questa scelta coraggiosa a Milano di allestirle all'istanza appunto senza soluzione di continuità ha restituito quest'idea di sequenza di montaggio di cui ha parlato Esther Cohen e che di fatto è la chiave di quella sorta di dinamismo che i recensori mettono in evidenza Melani scrive Periati non giura sull'immobilità della forma quasi tutti diciamo notano oltre all'impatto violento Giovanni Scena parla di urto violento che bisogna metabolizzare ma anche di quest'idea di sequenza tanto è vero che c'è una descrizione bellissima di Nicol Forti la figura di Cristo cade avanza si rialza è sempre davanti ai nostri occhi in primo piano impedendo di guardare alto e altrove se non il suo incedere il suo volto il montaggio ha un ritmo inesorabile a cui non è possibile sottarsi cioè veramente Previati fa un lavoro incessante non solo diciamo per costruire un'immagine ma per trasferire le emozioni legate a queste immagini appunto abbiamo detto attraverso l'essenzialità e il dinamismo creando questo rapporto di suggestione di empatia con l'osservatore in tutte le fasi del suo processo produttivo per questa ragione Fernando Mazzocca nell'introduzione parla di quasi di prefigurazione delle modalità percettive del cinema e naturalmente vengono a mente i prodomi del cinema a Maybridge che appunto era noto alla cerchia non solo parigina bollini ma anche certamente a Previati ma è interessante riallacciarsi anche all'interesse di Previati per l'interazione con l'osservatore stimolata da dispositivi tecnologici nell'84 progetta insieme a sodali del gruppo scapigliato e al commediografo Giacosa che guarda caso è il divulgatore in Italia delle teorie di Suryo e la costruzione di un monumentale diorama dantesco operazione ambiziosa quanto velletaria che naturalmente non va a buon fine ma dai dalla descrizione che ne fa il fratello e lo schizzo nelle lettere possiamo ricostruire visivamente e anche immaginare quello che doveva essere questo dispositivo che doveva assomigliare alle grandi messe in scena realizzate per esposizioni universali come il Grey Golden Globe dell'esposizione di Londra del 51 che vedete in questa riproduzione e quindi permettere all'osservatore di salire sulla destra vedete questa rampa di scale che sale la passerella che conduce alla parte alta di questo gigantesco edificio che doveva prevedere una passerella che girava intorno lungo le pareti secondo il percorso appunto idealmente dei gironi danteschi seguito da Dante e Virgilio nel quale si dovevano aprire delle scene con le immagini che descrivevano appunto gli episodi del poema queste tele dovevano essere animate dal classico dispositivo del diorama che con dei giochi di luce suggerisce effetti atmosferici ed è interessante come Previati proprio a partire dagli anni 90 recupera l'iconografia del Paolo e Francesca abbandonando l'iconografia in costume storicistica e iniziando a elaborare invece la visione delle anime nell'inferno dantesco che si liberano leggere come l'aria che sono vicine diciamo che forse hanno ispirato le parole di Boccioni sulla poetica degli stati d'animo ecco un ulteriore aspetto viene messo in evidenza in questo volume e cioè l'interesse di Previati a misurarsi con la dimensione mediale nell'era della riproduzione meccanica dell'opera d'arte sono state infatti invenute a Dogliani una serie di foto del ciclo della Via Crucis che presentano interventi a punta d'argento presumibilmente di mano di Previati si riferiscono probabilmente al periodo del 1906 a partire da quando Grubisi inizia a realizzare delle riproduzioni per la vendita in occasione delle esposizioni ma quello che e questo chiaramente rientra in una politica promozionale comune a galleristi francesi come Goupil e in Italia appunto aveva nella tradizione dei fratelli Alinari sicuramente delle basi ma quello che è interessante è che questo spinge Previati a interrogarsi sul destino delle sue immagini nella riproduzione a stampa già negli anni 90 Previati aveva utilizzato i dispositivi le fotocamere realizzando delle foto amatoriali per fissare dei punti di vista inediti da sviluppare poi nelle illustrazioni dei promessi sposi una prassi comune come è noto anche a Pelizzata Volpedo a Morbelli per fermarsi alla loro cerchia chiaramente però dopo la soglia del secolo quando si trova di fronte alla possibilità di una diffusione di massa diciamo della sua opera decide evidentemente di intervenire su questa su queste per enfatizzare i rapporti cromatici luminosi e gli elementi compositivi e quindi diciamo preoccupandosi dell'interazione della sua opera con il fruitore dall'ideazione alla sua estensione mediale di massa e volevo aggiungere che è stato recentemente acquisito dalle gallerie di Ferrara grazie al finanziamento del bando strategia fotografia ministeriale il fondo delle lastre conservate dall'archivio eredio Alberto Previati che appartenevano alla società per l'arte di Gaetano Previati promossa dall'infaticabile Grubisi e questo importante fondo di circa 370 lastre è stato studiato è stato restaurato da Petrillo e è attualmente allo studio di Monica Minardi e dalle prime indagini dalle prime edifiche sembra confermarsi la presenza su diversi esemplari soprattutto quelli di grande formato di interventi di ritocchi sia sul lato emulsione che sul lato veto che intervengono proprio ad accentuare diciamo i rapporti luminosi ecco qui ecco vedete nel lato vedo che quello centrale si notano proprio dei tocchi sono due mani una più grossolana e una diciamo più affinata potrebbe essere una la classica il classico intervento da fotografo o da stampatore e l'altro potrebbe essere proprio la mano dell'artista ecco volevo giusto riprendere velocemente questo riferimento al cinema perché mi sono imbattuta studiando il fondo di disegni in una curiosa coincidenza in questo caso spostata cronologicamente molto in avanti tra un ciclo di previati la concezione di un ciclo di previati quello per le vie del commercio con il quale forse per la prima volta si confronta con un mito della modernità dipingendo appunto questo ciclo per la camera di commercio sulle vie sui mezzi di comunicazione nell'era appunto degli spostamenti oramai di massa e concepisce ancora una volta una visione seriale come un disegno conservato a Ferrara sembrerebbe suggerire una visione unificata quindi quasi di queste di queste scene e andando a studiare l'iconografia si nota una strana coincidenza tra alcune alcuni impianti e il cinema contemporaneo nel 1914 è riuscito il primo colossal del muto Cabiria sceneggiato da Annunzio con cui lui previati l'anno precedente di cui aveva illustrato il libretto della Parisina e la sequenza del seguito di Cartalo che taglia le lune del deserto sembra molto vicina alla carovaniera del deserto e si nota quasi una ripresa palmare del manifesto della Cabiria nel disegno del quinto pannello che si aggiunge proprio nel subito cioè poco dopo nel 1916 il tempo è tiranno quindi non riuscirò a dire quello che volevo dire invito il a a a leggere il testo di scusate di Elisabetta Staudaker sulla sulla chiesa progettata per questo progettata e non realizzata per questo ciclo è quello di scusate di Sergio Rebora sull'eredità di Alberto Grubi sì mi soffermo chiudo o mi soffermo velocissimamente su credo che dobbiamo chiedere le 6 e mezzo ah sì ma io vai vai volevo volevo solo sì due parole sulla sull'importanza diciamo di questa scoperta che questo che questo volume riporta ossia l'attribuzione del Claire del Claire de Lune il notturno del Vaticano una delle due copie gemelle di questo ciclo realizzato da Previati per il suo mentore Alberto Grubi sì per la sala della musica allestita nella nella sua abitazione e inizialmente diciamo più noto la versione attualmente conservata al Vittoriale perché confluita insieme alla restante parte del ciclo a seguito della donazione ad annunzio delle opere del ciclo ma le indagini di Rosalia Pagnarani hanno permesso di confermare che invece la meno nota copia dei musei vaticani fosse quella originariamente allestita nel salone della nella sala della musica poi disallestita ma comunque presentata alla Biennale di Venezia per la stretta somiglianza che si riscontra in una foto dell'archivio Eredi Alberto Priviati sempre proveniente dalla società per l'arte di Chetano Priviati per la somiglianza con quello che presumibilmente è un piccolo dipinto ideatore sorvolo e soprattutto confermato dalla presenza ancora una volta di di quei pentimenti di quegli interventi in corso d'opera che potete appunto trovare riccamente documentati in questo volume ma che ci parlano appunto di questa instancabile attività che l'artista compie sulla superficie pittorica questa volta diluendo la la sua pittura fino a creare quella materia fluidica di cui parla Tummiati che deve essere stata diciamo veramente la chiave del fascino che Previati può aver esercitato su Boccioni e che restituisce meravigliosamente questo stato d'animo di abbandono alla riverine musicale che queste due figure ci regalano grazie io vorrei che Nicole dicesse solo due parole di questo forse puoi stare da lì sì credo che te lo possono grazie 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 mille è stato bellissimo Lia vuoi venire qui a salutare no per far l'amor del cielo allora interessantissimo io sono molto emozionata perché tanto tempo tra l'altro che non presentiamo i nostri gli esiti dei nostri lavori con i colleghi oltre che al pubblico che ci segue ed è sempre un momento molto importante di confronto di verifica di riflessione anche perché come tutti noi sappiamo le mostre i cataloghi i volumi che produciamo mettono un punto ma sono anche un nuovo punto di partenza per riavviare approfondire andare in altre direzioni quindi il confronto e la lettura che so faticosa quindi vi ringrazio veramente perché presentare un libro è un grande impegno e vi sono veramente grata è un momento di straordinaria verifica stimolo oltre che di emozione ringraziando Chiara Vorrasi di cui si è diciamo apprezzata immagino la familiarità con Previati questo proprio camminare a braccetto con un artista che ormai fa parte della sua famiglia allargata insieme a lei condivido l'emozione qui abbiamo qualche giovane le nostre giovani stagiste che ci salutano oggi l'emozione di avere un maestro perché Esther Cohen è un maestro è stata un maestro nella nostra formazione accademica una studiosa rigorosa essenziale visionaria propositiva innovativa severa severissima è stato difficile essere studenti mentre lei era già una giovane ma importantissima influente docente è stata un punto di riferimento non solo in ambito accademico Chiara ricordava il suo impegno nell'attività espositiva che non è sempre così scontato da parte degli accademici riconoscendo l'importanza che rappresentano i momenti espositivi nella ricerca scientifica anche nella ricerca scientifica e quindi averla qui oggi è oltre a un segno di amicizia veramente una grandissima una grandissima emozione per noi e spero che appunto le nuove generazioni incontrino anche loro anche loro dei maestri che poi li seguiranno nella loro crescita e ovviamente a tutti i colleghi questo lavoro è un collettivo lo abbiamo saputo lo avete ricordato voi è un lavoro corale i colleghi che si occupano di tanti argomenti diversi e che consentono a questa istituzione di rappresentare veramente un fiore all'occhiello diciamo nell'ambito della grande tradizione dell'istituzione sia accademica ma soprattutto museale diciamo italiana noi non siamo Italia ma insomma ci sentiamo parte del paese che ci ospita dalle mani dei nostri restauratori alla loro grandissima competenza scientifica a quella del gabinetto di restauro a tutti i colleghi storici che ci hanno accompagnato al dialogo con le altre istituzioni sono veramente dei momenti di approfondimento rari e che soprattutto sono frutto di un percorso lunghissimo oggi presentiamo un volume che doveva essere anche una mostra e che ha alle spalle anni e anni di studio e di ricerca e questo è sempre molto importante poterlo verificare ringrazio ovviamente Francesca che è stata già ringraziata Boschetti ma che senza di lei veramente la nostra quotidianità sarebbe più faticosa e ringrazio ovviamente Rosalia la trovate nel volume ma noi la chiamiamo Lia Pagliarani che è una eccellente studiosa è veramente una straordinaria una straordinaria indagatrice dalle carte di archivio fino alle più raffinate letture iconologiche iconografiche il saggio sul Crabbe è veramente esemplare perché propone anche una visione proprio filosofica di Previati che lo rende ancora più ricco e ancora più complesso e il mio ovviamente direttore tutta la direzione che sempre ci supportano e a Gaetano Previati che è un compagno fedele della nostra strada grazie io prima di chiudere vorrei ringraziare formalmente le nostre relatrici dandole a Etter e a Chiara i due cataloghi sono freschissimi di realizzazione sono la mostra che faticosamente siamo riusciti a realizzare nello stesso posto dove il Museo di Cesano di Milano Carlo Maria Martini con Nadia Righi per la curatella di Micola e di Nadia Righi a Milano dieci giorni fa quindi è proprio sono appena arrivati e quella di Previati è stato in qualche modo così l'avvio di una collaborazione proficua che abbiamo con Milano e con questo luogo dove appunto la via crucis di Previati aveva questo effetto cinematografico che oggi non ha in Basilica ma con altra valenza in Basilica l'avete visto anche voi ultima cosa vorrei ringraziare assolutamente i servizi l'ufficio servizi rapporti con il pubblico l'accoglienza e anche tutto e tutta Anastasia Biller i collaboratori che sono qui fino anche a tardi e anche tutto il servizio di supporto tecnologico coordinato da Luca della Giovampaola Antonello e tutti gli altri che sono dietro le quinte e così tanti tanti altri l'ufficio web multimedia l'ufficio stampa c'è tante tante figure che effettivamente ci supportano che non compaiono ma che stanno dietro libri come questo che stanno dietro eventi come questo e quindi mi fa piacere da direttore veramente di ricontrare tutti quanti anche quelli che non sono riuscita a fare buonasera a tutti grazie 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 Grazie. Grazie.